Benvenute gente di multiplayer, benvenute a Ubisoft Bordeaux, la casa di Assassin's Creed Mirage. Siamo venuti per approfondire tanti aspetti di questo nuovo capitolo della storica saga degli assassini. Oggi vi vogliamo parlare di Basim, il suo protagonista e della città vibrante, colorata e stratificata che è al centro del gioco, ovvero Baghdad. Abbiamo intervistato Sarah Beaulieu, narrative director di Assassin's Creed Mirage, proprio per approfondire quali sono state le ispirazioni dietro le sue vicende personali, lo stile narrativo che il team ha deciso di adottare per la storia di Basim e soprattutto come le vicende di questo eroe si intrecciano con quelle che sono realmente accadute nella Baghdad del IX secolo. Perché la concretezza e l'accuratezza storica sono dei valori fondamentali per il team di sviluppo e anche la parte più narrativa del gioco, quella che si concentra su un personaggio fittizio, deve comunque intrecciarsi al meglio con gli eventi che succedevano allora. La ricerca storica è stata fondamentale, come poi ci dirà Sarah, e soprattutto andare a forgiare un protagonista che fosse insieme nuovo, quindi appartenente a un mondo ancora inesplorato dalla saga, ma anche familiare. Perché uno dei pilastri di Assassin's Creed Mirage è proprio il ritorno alle radici. E quindi quale avventura meglio di un protagonista che passa da un ladro di strada a un maestro assassino, proprio come Ezio Auditore, per riportare il gioco a quei sentimenti di cui tutti noi ci siamo innamorati oramai più di 15 anni fa, quando è uscito il primo capitolo. Baghdad è protagonista del gioco quasi quanto Basim. Nel corso del nono secolo era infatti una città con una miriade di strade e nicchie, ognuna delle quali nascondeva una storia. E noi abbiamo voluto replicare quella sensazione. Nella saga degli assassini più famosa della storia, l'ambientazione cittadina è sempre stata uno dei pilastri dell'avventura. Tuttavia negli ultimi anni i grandi capitoli in stile RPG hanno abbandonato la struttura tradizionale, per trasformarsi così in esperienze open world con qualche centro abitato a fare da punto di interesse. Mirage torna invece a concentrarsi sulla formula che vede un'unica città alla base di tutto. Baghdad era una città coloratissima. Noi siamo abituati a immaginarcela grigia e in rovina, grazie alle recenti rappresentazioni all'interno degli FPS. Ma la nostra è una Baghdad verde, piena di cammelli, grande e soprattutto viva. Essendo sulla via della seta, al tempo la città ospitava mercanti e viaggiatori provenienti da ogni dove. Non era solo un catalizzatore dell'economia, ma anche della cultura, con decine di menti brillanti che discutevano di filosofia, scienza e letteratura, dove era possibile sentire tante lingue per le strade. Nel corso dell'avventura dovremo infatti affrontare missioni in cui aiutare mercanti provenienti dalla Cina e avremo a che fare con artefatti europei e persino indiani. Baghdad viveva un periodo di straordinario splendore nel IX secolo, ma dietro i giardini pensili, le abitazioni decorate e le colossali porte della mitica città rotonda, stava però iniziando a maturare un feroce malcontento nei confronti di una classe dirigente avida e senza scrupoli. Stiamo parlando di una delle più grandi e popolose città del tempo, ed era naturalmente divisa in distretti. C'era una zona proto-industriale, con negozi dedicati alla lavorazione delle materie prime. C'era un distretto culturale, uno dedicato ai militari e uno ai più importanti personaggi del califato. La città è stata ricostruita cercando di realizzarla il più fedele possibile alle testimonianze dell'epoca e anche a quelle archeologiche. Ciascuno dei suoi luoghi ha infatti un'identità precisa con persone, abiti, maniere e costumi caratteristici. Gli sviluppatori la descrivono come una città che tuttavia c'è la qualcosa che ribolle negli strati più bassi della società. Non è la prima volta che Basim appare in un titolo di Assassin's Creed. Il suo debutto è infatti stato in Assassin's Creed Valhalla, dove però è già un maestro assassino. Con Mirage gli sviluppatori hanno quindi avuto il compito di raccontare le sue origini. Avevamo molto materiale da cui partire. Basim è un assassino amato e odiato per quello che ha fatto nel capitolo precedente della saga. Quindi il nostro compito è stato quello di costruire delle fondamenta molto solide per il personaggio che sarebbe diventato. È un uomo dalla personalità molto sfaccettata e la sua storia inizia come quella di un eroe molto amabile, da cui però nel corso degli anni emergono quelle caratteristiche che spiegano le sue azioni in Valhalla. Stando alle parole di Sarah Belier è stato quindi davvero complesso creare suspense e progressione quando si sa già dove andrà a parare la storia, poiché quella di Basim tanto in Mirage quanto in Valhalla è una storia sul destino, una forza incredibile a cui non si può sfuggire. In più la narrative director si è anche sbilanciata sulle origini del protagonista. Basim è cresciuto vicino a Baghdad, a Samarra, e poi si è spostato in città per diventare un ladro di strada. Lì hanno avuto luogo gli eventi che hanno dato inizio al suo percorso di assassino ed è lì che è tornato, una volta terminato l'addestramento, ad Alamut. Essendo una grande capitale, a Baghdad è in corso una guerra silente tra l'ordine degli antichi e gli assassini. I primi sono i burattinai del califato Abbaside, mentre i secondi vogliono mettere fine all'oppressione di questo prosperoso ma brutale regime. La storia è infatti delle più classiche. L'ordine è un capo potente in città e avremo quindi l'incarico di eliminare uno alla volta i suoi luogotenenti per costringerlo a venire allo scoperto. Ci saranno poi investigazioni e tante interazioni con la gente della città, dagli schiavi ai sapienti, per scoprire dove sono e cosa fanno i nostri bersagli. Ciò che sappiamo è che l'ordine è a Baghdad perché è alla ricerca di alcuni artefatti e il nostro compito sarà quindi quello di fermarlo una volta per tutte. E inoltre Basim avrà un'evoluzione lineare come personaggio, con alcuni momenti di svolta in cui saranno delle figure storiche a fare da catalizzatore del cambiamento. E una di queste è Ali ibn Muhammad, il capo della grande rivolta degli Zanji. L'avventura è infatti ambientata nel periodo immediatamente precedente a questa grande ribellione, che per quasi vent'anni scosse il califato alle fondamenta e che noi contribuiremo a fomentare. Nel rapporto tra videogioco e storia così com'è realmente accaduta, il team di sviluppo è tuttavia dovuto scendere a compromessi. La nostra missione è sia ricreare alcuni eventi molto specifici, sia riscriverli per metterli al servizio della narrativa e per farli avere un assassino come protagonista. Poi, visto che ci sono pochissimi resti archeologici, abbiamo dovuto fare un grandissimo lavoro di ricostruzione degli ambienti, delle strade e dei monumenti. Quindi ci siamo presi necessariamente qualche libertà, cercando di restare il più vicini possibili alle fonti. La grande casa della Sapienza, ad esempio, è stata posizionata nel distretto dove si lavorava la carta, perché al team è sembrato logico che una struttura parauniversitaria come quella sorgisse dove si fabbricava il materiale per la scrittura. E lo stesso approccio è stato adottato nei confronti di Basim e delle sue interazioni con i grandi protagonisti del tempo. Ali e Basim si incontreranno perché gli assassini stanno aiutando la ribellione a muovere i suoi primi passi, ma le due parti hanno modi diversi di intendere il concetto di libertà. Quindi ci saranno diverse discussioni a riguardo. Su Ali, purtroppo, non c'è moltissima letteratura, ma quel poco che c'è è davvero interessantissimo e ci ha motivati a immaginare e a fare ricerca. Per creare un personaggio che fosse davvero a tutto tondo, gli storici di Ubisoft hanno incrociato le fonti contrastanti, creando quello che la responsabile della storia definisce un personaggio da sogno, poiché è stato possibile riempire gli spazi bianchi lasciati dalla storia. Sara Belieci ha inoltre raccontato di una tripletta di personaggi che le è rimasta molto impressa e che gioca un ruolo fondamentale nella progressione di Mirage. Una delle figure storiche che più ci è piaciuto inserire nel gioco sono stati Banu Musa, tre fratelli che insieme erano i Leonardo da Vinci del loro tempo. Erano matematici, scrittori e soprattutto inventori. E nel gioco daranno a Basim tutti i suoi gadget e li miglioreranno. Uno di loro sarà al centro di un evento molto importante, ma non voglio fare spoiler. L'ultimo tassello di questo rapporto tra personaggio e ambientazione che ci è stato raccontato è stato il ritorno di Alamut, l'iconica fortezza degli assassini che al tempo di Mirage è ancora in costruzione, ma che Basim usa come terreno di addestramento. Tornare ad Alamut è stato fondamentale per il team di sviluppo, ma vista la scarsità dei reperti archeologici, gli autori hanno dovuto fare alcune supposizioni per ricostruire la struttura e portare i giocatori dietro le quinte della fortezza degli assassini. Ricreare Alamut non è stato un compito facile, la sua genesi è stata travagliata e frutto di parecchie discussioni. Alla fine però, sia io sia l'intera squadra, siamo molto orgogliosi del risultato finale. E voi che aspettative avete su Assassin's Creed Mirage? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare anche un bel mi piace. Qui a fianco trovate ora alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima!